Bella a tutti ragazzi, qua Argasmic e sono qui con un nuovo episodio di Se Fossero su FIFA Abbiamo due giocatori che secondo me bisognava trattare assolutamente più la leggenda che mi è stata richiesta da tantissimi di voi dall'inizio di questa serie e quindi ci sarà Come sempre vi invito a lasciare un bel like, vediamo se riusciamo ad arrivare a 300 mi piace per questo video e come sempre scrivetemi nei commenti altri giocatori da trattare negli episodi successivi sia normali che ovviamente leggende Comunque, partiamo subito dai tre giocatori di oggi Sono due giocatori oro, che dovrebbero essere oro più vabbè la leggenda come ho già detto prima Quindi partiamo subito dal primo giocatore Andiamo in Ligan per trovare Bernardo Silva Un giocatore che non so perché non è stato inserito in questo Ultimate Team Non ho praticamente idea perché comunque ci sta È un giocatore molto molto buono, molto promettente, molto giovane Questa è la sua carta, lui ha 20 anni quindi è molto giovane, ha tanta margine di crescita Dovrebbe diventare tipo su FIFA un 84, un 85 giù di lì Che comunque è una bella bella crescita Lui quest'anno ha fatto 45 partite tra campionato, Champions League, Coppa di Francia, eccetera eccetera E Coppa di Lega, penso 45 presenze, firmando 10 gol e 4 assist Non male per un giocatore che ha soli 20 anni e che comunque fa l'esterno A volte è l'ala ma può ricoprire anche il ruolo di trequartista Questo è un giocatore interessante da tenere d'occhio Che ha anche 4 stelle abilità come ho visto su FIFA Queste sono più o meno le sue statistiche che dovrebbe avere buone statistiche Ovviamente più crescerà, più diventeranno migliori ovviamente Andiamo con il secondo giocatore di oggi Un giocatore che noi conosciamo particolarmente Un ex Serie A Stiamo parlando di Robinho Robinho che volevo trattare perché vabbè Robinho ci sta, è un grande Quest'anno gioca nel Santos È stato mandato in prestito dal Milan E poi scadrà il prestito di Robinho Quindi poi penso che rimarrà lì Robinho comunque non sta giocando male in Brasile Sappiamo che la FIFA non ha rinnovato la licenza per la Liga do Brasil Non so se per l'anno prossimo sarà disponibile ma non credo Però me lo auguro perché vorrei che Robinho ci fosse su Ultimate Team Perché ci sta Questa è la sua carta, più o meno la si trova anche su Futed Questa carta del Milan Perché non è stata aggiornata la cosa Però non è presente ovviamente nel gioco Comunque ha delle ottime statistiche per essere un 76 L'unica cosa negativa ovviamente è quel 60 di tiro Ma che ci sta perché Robinho non è stato mai un grande tiratore, finalizzatore Però ha delle buone statistiche Io spero, come ho detto prima, che ci sarà su Ultimate Team il prossimo anno Se verrà presa la licenza Perché vorrei che questo giocatore fosse un Silver tipo 74 Con più o meno queste statistiche E sarebbe anche non male se gli mettessero le 5 stelle abilità Che secondo me Robinho meriterebbe Andiamo con la leggenda di oggi Un giocatore che mi avete chiesto tantissimi Saprete già di chi sto parlando Cioè Battistuta Una leggenda proprio del, soprattutto del calcio italiano Nella Serie A Ha fatto un sacco di partite Nel suo rendimento che vedo qui su Transfermarkt Mi fa 354 partite 195 gol e 4 assist Quindi è una media per un attaccante davvero incredibile Lui è sicuramente uno degli attaccanti più forti di sempre Perché ci sta Guardate queste statistiche Gli ho messo un po' così a random Perché ovviamente poi con le leggende non è facile stabilire la statistica giusta Però penso che ci possano stare Comunque se qualcuno ha qualcosa da consigliarmi per migliorare queste statistiche Me lo scriva appunto nei commenti In ogni caso sono statistiche da ottimo giocatore Da grande giocatore 4 stelle abilità, 4 stelle più deboli Un tiro allucinante perché ci sta Magari potevo anche aumentare qualcosa Però vabbè Comunque penso che sia tutto meritato Questa leggenda andava trattata Perché è uno appunto come ho detto prima Uno dei più grandi attaccanti di sempre Ha giocato in Italia nell'Inter, nella Roma Soprattutto nella Fiorentina Quindi era necessario trattare batti gol Comunque raga Il video finisce qui Come sempre vi invito a lasciare un bel like A 300 mi piace uscirà un nuovo episodio Scrivetemi appunto come ho detto prima nei commenti Qualche giocatore da trattare nei prossimi episodi E soprattutto Anche soprattutto Le leggende che volete che io tratti Successivamente Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale Pagina Facebook, Twitter, Instagram Tutti i link li trovate come sempre in descrizione E noi ci vediamo al prossimo video Bella raga Ciao a tutti